Al comunale di Secchiano Nova Feta e Sant'Ermete si giocano in passaggio alla finale playoff per il salto nella promozione romagnola, pubblico delle grandi occasioni da una parte e dall'altra che porta a riempire la tribuna centrale raccogliendo circa 500 unità. Coriografia giallobru d'applausi prima dell'inizio del match, ten arbitrale composta dal signor Montefiori di Ravenna. Si gioca sotto un diluvio universale, campo al limite della praticabilità, Nova Feta in tenuta bianca, Sant'Ermete in tenuta tradizionale, squadre che si affrontano in stagione per la terza volta con i precedenti a favore del Sant'Ermete che in questa stagione ha battuto in Nova Feta due volte su due, tensione che si avverte anche sulle panchine da una parte e dall'altra con entrambi gli allenatori in piedi, calcio da bio affidato a Sant'Ermete. La gara entra subito nel bio già al secondo quando l'impallo favorisce alla conclusione di Capitano Molari, pallone che si accomoda sul fondo. Al dodicesimo in match si sblocca, Alessandro Rossi classe 1996, sigo un costo-to-costo partendo dalla propria metà campo. La difesa di Nova Feta rimane guardinga, lasciando salire il terzino che indisturbato timbra il cartellino con il tiro della domenica. Sta affilata amici di Ale alla sinistra di Semprini, gioia meritata per il numero due, abbracciato a tutta la panchina e dai compagni in campo. In credulo Rossi rimarrà per alcuni minuti, il replay per lui è meritato. In Nova Feta reagisce da rimessa laterale, ma mutare appoggia per i muratori, guarda terra serve Balducci che indirizza il pallone laddove van di tuffo vuole ad eviare la sfera in corner. Dalla bandierina a salire in area avversaria ci persa il centrale difensivo Babini, senza inquadrare però di testa allo specchio della porta. Zavattini invece da punizione chiamano la rispinta di Pugno Semprini. Altro calcio piazzato, Genghini sfiora la marcatura con una deviazione pericolosa che termina di poco a lato. Dall'angolo stesso Genghini c'entra il legno superiore della porta difesa da Semprini. Ma il San Termete è micidiale, Castiglioni servito sulla sinistra e mette su fine di tempo questo traversone a memoria per il perfetto inserimento di testa di Capitan Molari che firma il 2-0. Gran gol per il numero 9 che festeggia con tutta la squadra un gol che sa d'impresa. Il replay anche in questo caso è meritato. Primo piano per Achille Fabri che appare sconsolato, squadra riposo sullo 0-2. Nella ripresa ti aspetti l'immediata reazione di Nuova Fete ma sul diario di cronaca annotiamo un timido tentativo di Castiglioni terminato a lato, un tiro a giro di Rossi deviati in corner e una punizione fuori misura di Zavattini. Per vedere Nuova Fete occorre aspettare il 24esimo quando Muratori raccoglie la sfera ma scaccia troppo il destro. Ma passano 120 secondi di lancette ed ecco che la gara si riapre. Dall'angolo il colpo di testi Muratori viene allontanato sui piedi di Mamutai che si aggiusta la sfera scivolando al momento del tiro ma questo non gli impedisce di trovare l'angolo vincente alla destra di Vandi. Gol davvero bello, anche in questo caso ci gustiamo il replay. Ma non c'è neppure il tempo di festeggiare che Bucae da punizione, certamente non irresistibile, inventa una traiettoria beffarda e velenosa con Semprini che rimane a guardare il pallone e infilarsi alle proprie spalle. Sogni di gloria per il Sant'Ermete e beffa fatale per il Nuova Feta dalla quale non riuscirà più a riprendersi. La squadra di Fabri prova a riaprire nuovamente il match ma la conclusione di Cupi è bloccata da Vandi. Il Sant'Ermete invece agisce di rimesse. L'ennesima Pozzangara che ferma la sfera permette alla fine a Belloni di molarsi davanti a Semprini peccando infine di precisione. E' la volta di Baldinini che dall'altra parte chiama l'intervento col guantone aperto l'ottimo Vandi. L'occasionissima diva al 44esimo, capita sui piedi muratori ma l'attaccante giornata no, calcia alle stelle. Ancora nuova feta protagonista in fase offensiva, qui dubbio, sconto in area di rigore tra Bettini e Baldinini. Montefiori di Ravenna fa segno di proseguire. Su finire all'ultimo respiro Belloni ancora ingannato da una Pozzangara accompagna la sfera tra i guantoni di Semprini. Termina qui la semifinale playoff che manda in finale il San Termete che avrà di fronte una signora squadra come Granata ma nel frattempo per i Verdi meritato momento di gioia raccolto con i propri supporters. Invece a nuova feta rimane l'applauso di un pubblico sportivo che nonostante l'amaro aver detto ringrazia per il campionato eseguito.